Non tutte le squadre della Silvio Pellico 3P hanno iniziato in modo positivo il 2018. E' andata bene alla C maschile a Missima Assicurazioni che si è sbarazzata fuori casa alla San Giuseppe Virtus Sassari con un secco 3-0. Appuntamento in casa con la decima gara sabato 13 gennaio alle ore 19.30 contro l'Olbia. E' andata male la di femminile, faratrasporti che a causa delle numerose essenze ha ceduto per 3-7-1 nella palestra della Smeralda di Ossi. Appuntamento in casa con la decima gara sabato 13 gennaio alle ore 19.30 sempre contro l'Olbia. I giovanissimi della di maschile a Speed Date, tra infortuni e essenze, hanno perso in casa con un secco 3-0 contro gli esperti del Monastir. Appuntamento fuori casa a Cagliari con la decima gara sabato 13 gennaio alle ore 19.30. Vince 3-2 la prima divisione femminile contro la San Giuseppe dopo una lunga battaglia superando le cugine sassaresi. Appuntamento fuori casa a Sorso con la sesta gara domenica 14 gennaio alle ore 18.00. Presenti oltre 100 giovanissime e una insolita Befana al torneo della Befana 2018. Presenti le Pellicane, Sorso Volley e Pallavolo Porto Torres.